Io abbiamo il venditore abusivo ambulante, sapete quello lì con lo zainetto, il classico quello lì che insomma il nero in giro calzini, calzettini, bottini, braccialetti, profumi che vende un po' di tutto e lui insiste a vendere la sua merce ai personaggi che trova alla banchina dell'autobus, alla pensierina, alla fermata dell'autobus, nel tentare di venderli, di vendere la sua merce, questo ovviamente no, grazie no, si deve ionizzare sui modi in cui uno rifiuti tipo, no grazie guarda c'era un sacco a casa, la principale sono uscita senza soldi, però il biglietto dall'autobus tu lo sei ricordato e ride per dire dai, trovi il biglietto dall'autobus ti ricordate, eh vabbè lasciamo stare, t'ho capito, non ti serve niente, no, per dire non ti serve niente, però qualcosa ci sarà, ciò la cd, ciò questi, la mente, ciò questo, può essere, sia la centrale paletano perché è tipico di quella zona arrangiarsi e l'arte di sapersi arrangiare, vendere, di cui è orgoglioso ogni cittadino da Napoli e così, però è tipico di lì, però ci si può trovare anche a Roma magari, eh signore, un braccialetto, un braccialetto, una collanina, signore una collanina, un braccialetto, che te posso dire, poi c'è pure gli accendini, c'ho i mollietti, c'ho, 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 c'ho bisogno di realizzare sui modi in cui, mentre un signore diceva sempre, però mi piaceva, però ho avuto una giornata, guarda, ti devi mettere anche tu, guarda, ho avuto una giornata, gentilmente, per cortesia, io non la disturbo, lei è un disturbo in me, e andiamo d'accordo, ok? Cioè, creare anche delle cose che sono ovviamente anche inverosimili e lì appunto potete improvvisare la reazione, qui ci servirebbero appunto dei signori un po' più grandi del ragazzo, cioè se il ragazzo ha 20 anni, questo venditore ambulante, che dà un po' fastidio, che fastidisce nel tentativo di vendere i passanti, che stanno lì alla fermata, gli altri passanti devono essere un po' più grandi, quindi una signora, un quarantenne, un cinquantenne, ho reso l'idea, manca un ragazzo, senti, non ho lavoro, sono disoccupato, ho giusti soldi per l'autobus, il caffè, poi non mi serve niente, analizzare un po', giocare un po' su questa cosa comica, e anche sugli aneddoti che lui racconta, tipo dice, più che aneddoti, lui può anche raccontare, tipo dire, non faccio pure lei così, mi è già capitata una vera, una signora, un'anziana, una signora di una certa età, per non essere volgare, non volevo offendere su, che mi ha detto, quanti io ho la pensione sociale, non arriva a fine mese, però alla fine insisti, insisti, gli ho fatto un po' pena e mi ha comprato un calzino, ma non un paio, un calzino spaiato, per dire, situazioni di questo genere, secondo me possono fare ridere, quindi pensiamo a altre situazioni paradossali, perché ce ne sono, e le inseriamo e le facciamo recitare a questo venditore abusivo ambulante. Secondo ruolo, o meglio, scusami, questi erano l'undicesimo, è quello del venditore ambulante, il dodicesimo è questo qua, che vi annuncio adesso, ed è il giovane ragazzo, o anche la giovane ragazza, è indifferente, che canta i pezzi e i ritornelli di canzoni famose ogni volta che sente un pezzo, una frase, una parola presente nel testo della canzone in questione, mentre ovviamente viene enunciata, viene detta da un'altra persona che sta parlando accanto a lei, sempre alla fermata dell'autobus, quindi faccio un esempio, per esempio, scusate la ripetizione, c'è una signora che dice, parlando con l'amica, eh insomma, adesso devo andare lì, dal capo, sai che c'è? Quello senti? C'è che mi sono innamorato troppi te, e le signore mentre canta, ce la guardano, come per dire, c'è piatto quante, tutte dure, poi si guardano tra di loro, così e loro, questo è fuori, io penso che è carina, no? Penso che tra tutte quante ha più immediata e dovrebbe far ridere, per la sua semplicità, perché le cose semplici fanno ridere, le cose complesse non fanno ridere. E poi l'altro dice, dopo qualche secondo, facciamo passare dieci secondi, no? Che l'attesa è importante, le pause, le attesi, i tempi comici sono importanti, non troppo lunghi, né troppo brevi, no? Né troppo corti. Allora, dopo un po', sempre le stesse due signore, magari l'altra stavolta, o altri due che si siedono poco dopo, perché queste devono prendere l'autobus e vanno via, escono di scena, sentiranno, parleranno, queste altre persone, le stesse due signore, di un argomento tipo, ma certo che ottobre sta facendo un bel tempo, ora bisogna vedere se a novembre, a novembre la città si scalda in un istante, il bello è che, poiché questo parte ad alta voce con la sua canzone, fa scantare, come dice Montalbano, Montalbano, fa proprio spaventare, non mi veniva, fa spaventare le persone, no? Quindi l'effetto sorpresa, che lì bisogna essere bravi, perché spaventarsi per finta non è facile, però si può fare, si può fare. Il bello è che deve essere una candy camera, finta, simulata, ma che sembri vera. E allora lì, ragazzi, l'abbiamo svoltato. Insomma, poi magari c'è un altro, per fare un esempio, dice, senti, per quanto riguarda quella questione lì di Mario, ok, io il regalo lo metto, ma per tutto il resto, tutto il resto è noia, non ho detto gioia, ma noia, 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 questo è bello che appunto canta muovendo le mani, gesticolando molto come faccio io, e si rivolge anche, e si rivolge anche, ma non subito, a loro, cioè, immaginate, no? E questi vado, ma se ti dico, guarda, tutto il resto, piano, per dare il tempo all'attore, cantante pazzo, mattarello, di intervenire e proseguire la canzone, cioè, per questa cosa mi va bene, ma per tutto il resto è noia, non ho detto gioia, ma noia, 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 proprio una battuta, 5-6 secondi di canzone, e quelli lo guardano, esterrefatti, sorpresi, schifati, tra virgolette, come per dire, ma questo, ma è scemo, cioè, che manca anche un po' di rispetto, no? Perché stai ascoltando quello che dicono le altre persone, e in più ti intromenti cantando. Io rido perché in qualche modo c'è l'empatia, e questo è un ruolo comico che mi piace, ed è l'undicesimo, no, è il dodicesimo, il secondo di questa, di questa clip, video che stavo facendo. Ce n'è poi un tredicesimo, tredici, un bel numero, ed è il ruolo che in parte è ispirato a me, è il ragazzo disoccupato, colto, diciamolo anche, colto, un po' saccente, un po' sicuro di sé, ma non troppo, cioè, sarà di merito, sa che è bravo, ha studiato, è davvero intelligente, come lo sono tanti altri, però non capisce come mai non riesce a trovare lavoro, cioè, in qualche modo, ovviamente non sarà male abbastanza umile da fare alcuni lavori, ma in realtà non è neanche questo il punto, faccio un esempio, io volevo farvi capire, io a casa porto i piatti, lavo i piatti, cioè potrei fare il cameriere, il lavapiati, posso prendere le azioni, il cabaret, però non hanno le opportunità, l'età, infatti facciamo questo ruolo, lo facciamo girare, facciamo rappresentare, interpretare, da qualcuno che, scusatemi la postura rilasciata e ribosciata, ma è che sto registrando da un po' di tempo, quindi il cervello sta, devo anche farmi una pompata d'acqua, che la lingua si secca. Questo girando, per chiudere, questo ragazzo ha 35 anni, tipo me, ha fatto dei bei lavori, ma non pagati tanto, lavori nel settore della pubblicità, vogliamo metterci del mio, vero? Allora lui dice, ma come è possibile, cioè, ma come è possibile, ho fatto questo, ho fatto il grafico, ho fatto il pianificatore, sono andato a coordinare la rete urbana, sono andato a fare la pubblicità ferroviaria, la pubblicità esterna, ho fatto i video, ho fatto anche delle delle cose degli spot che sono andati su, su Lazio tbu, su Lazio tbu telegolfo, ok? Nella Rai non è il canale 5, pezzica, ho lavorato per la 7, ho lavorato per la 8, per la 9, per la 10, per la 11, no 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 no, ho fatto davvero, magari si confida, o comunque… si si sfoga, si sfoga con il suo vicino di panchina dell'autobus, della fermata dell'autobus e dice quello che insomma lo sopporta, dice ma se ti capisco, in qualche modo vede che è un po' depresso, è un po' irritato e nervoso e cerca di tranquillizzarlo, quest'altro che sta ascoltando lo sfogo del nostro Davide disoccupato, dice guarda qua, stavo proprio guardando adesso Infojobs, e si può dire che pubblicità, ma chi è che non lo conosce, come direi Google, stavo cercando su Google questo lavoro, Infojobs, perché chi è che non usa Infojobs? Tutti dobbiamo usare Infojobs, perché ormai il lavoro, mica ti nechi dal datore di lavoro, no devi andare, neanche nell'agenzia interinale, ormai fai tutto con il computer, con il tablet, un bel lavoro, poi 3.000 candidati per un posto, poi dice ma però il tuo curriculum è stato inserire il processo di selezione, processo, processo, quanti step, step, perché ormai siano English, quante fasi, prima fase, seconda fase, primo passo, secondo passo, terzo passo, tu inizi un cammino verso l'assunzione, che lo inizia adesso, ma non sai quando finire, è un po' come nascere, tu nasci, ma non sai quando muori, in questo caso si spera di morire i più tardi possibile, però il lavoro è uguale, è qua che questo, eh, lavorare un po' come morire, cioè essere assunto, è un po' come morire, è una massima di vita, cioè non so se è più facile fare l'assicurazione sulla morte, o l'assicurazione sul lavoro, cioè, sull'assunzione, io la farei, cazzo, questo è bellissimo, l'assicurazione sull'assunzione, se ti assumono, non ti preoccupare, lo so, è pesante, lo so, è un dramma, è un dramma, però poi ti aiuto io, se ti assumono, che pensi mi dicono in un partito, ci penso io, non è una cazzata, qua è più facile, cazzo, morire, fai prima morire che a lavorare, e allora poi ti fai il lavoro in me, ti metto l'annuncio, faccio le ripetizioni, faccio le lezioni, faccio le fotografie, faccio i video, gratis, accetto volentieri un gradito e gentile, un gradito e gentile offerta, oppure si accettano donazioni, oppure su offerta, gratis ma con offerta, cioè di che inventare tutto l'impossibile, che dire, vediamo i miei appunti, ah ovviamente bisogna anche commentare in maniera ironica e comica le manzioni più umili, ma senza denigrarle, decima crepe, facile, ma io vorrei fare anche quello che la, io a casa non pulisco, non lago per terra, non pulisco, non stanno i palli, la Golf, non la Golf, la Polo, la Volkswagen, la Citroen, la Fiat, la Mercedes, la Renault, la Ferrari, no, la badante o il badante o il maggiordomo, cazzo lo posso fare pure io, referenze, oggi se non hai l'esperienza, uno, e l'esperienza la puoi certificare, lei dove era quel giorno, stava lavorando con le pulizie, stava facendo il receptionist, stava facendo l'impiegato commerciale, ma devi dimostrarlo, è bello che qua non puoi prendere più riccuno nessuno, puoi inventarti che lei fatti in nero, fatti in nero è l'unica scappatoia, ci sono fatti in nero, non c'è traccia, per altri di trovare quello che dà il numero, nome, cognome, perché poi gli vado a fare le interviste, si, siamo davanti, guardi, lei ha dichiarato, o meglio il suo amico, il suo assunto, poi è vero che assumere il nero, cioè chi è che, chi è che dice, si ha lavorato per me, allora non l'hai pagato, passo per coglione che vado a lavorare in giro, faccio l'apprendistato gratuito fino a 90 anni, ma stiamo dando numeri qua, perché come si capita che quello arriva in casa, allora guardi, te la dico, la polizia di stato, oppure io, i carabinieri, signor carabinieri, signor Ferrari, signor Bianchi, un cognome famoso, signor Rossi, signor Rossi serve il brigadiere quasi, mi faccio asanire, perché è una questione molto delicata, quella che si caga sotto, quella che si è sempre brigadiere si caga sotto, carabinieri, è successo, è morto qualcuno, è scomparso il mio figlio, no, per dire, cosa se, no, perché devono andare, no, non dico lo faccio, ma io dico, c'è il rischio a dichiarare che tu metti come, tu accetti una referenza, cioè ti mettono una referenza, contage, referenze di signor Paolo Rossi di Merate, via Pengo Pallino, va via Pengo Pallino, 5, vada a lui, sale, guardi, se lei ha dichiarato che il signor Davide Marchetti, nato a bla 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 bla, lo conosce, quello qua non sapeva niente, e guardi, qui sul terreno è stato lavapiatti e maggior dopo a casa sua, lo conferma, c'è, guardi, dica la verità, che qui siamo, cioè, non mi dica fesseria, cioè, qui siamo nel penale, non nel civile, qui nel penale, che non c'entra niente con, faccio battute roti, cioè, qua siamo nel, qui scatta l'arresto, è per far sua testimonianza, ma mi dite voi dove stiamo andando a finire? Guardi, io non lo so, so solo che sta arrivando il mio autobus che mi devo salutare, ma non finisce qui, eh, perché, come si dice, qui facciamo sul serio, io non ti scherzo, eh, qui si fa, si fa per ridere.